Buongiorno, stamattina dopo la settimana prima passata stiamo riniziando a sanificare le strade, abbiamo iniziato giù a Venza, dalle Selunga, la Coppa, le farmacie comunali di via Florillo, di via Cavalotti, Sinisi, Cugini e a Venza Centrale e Giale. Abbiamo fatto via Candia, adesso stiamo facendo via Capelletto, via Baluardo e andiamo a fare il versante dei paesi suografici. Durante la settimana quindi andremo avanti con la sanificazione spostandoci verso il basso, quindi Monascola e altre zone della città. Questo per il momento è il piano lavoro, poi mattino per mattino vedremo cosa c'è da fare. Ciao!